bentornati su figaro lab oggi video dedicato a un doppio overdrive della gempedals il tube dreamer 88 pedale attualmente mi risulta fuori produzione correggetemi nei commenti se sbaglio ma che ancora un discreto valore sul mercato dell'usato in effetti sono due unità due scrimer fondamentalmente con diverse soluzioni di clipping quindi due unità che con dei suoni diversi ricavati principalmente da modifiche più o meno impattanti nella parte di clipping questo pedale è arrivato in laboratorio perché purtroppo insieme a tant'altra attrezzatura è reduce da un alluvione quindi ha visto acqua visto fango detriti e andremo a vedere in che condizioni si trova e se è possibile conveniente la riparazione prima di andare avanti con il video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di mettere un like se il video è di vostro gradimento buona visione allora io il pedale l'ho già aperto provo a farvi vedere un po meglio lo sporco ecco interi pezzi di fango all'interno accumulati io ho liberato già questo questo integrato e questo integrato sono due amplificatori operazionali per farlo ho dovuto rimuoverli prima con un cacciavite di plastica il grosso poi una spazzolatina senza rimuoverlo dallo zoccolo ed infine ho tolto il rimesso l'operazionale nel suo zoccolo un paio di volte per ripristinare il contatto ho verificato il diodo a protezione dell'alimentazione per vedere che non ci fossero dei cortocircuiti l'alimentazione sembra in ordine direi che possiamo procedere a provarlo sotto strumenti allora abbiamo collegato il nostro pedale all'alimentatore da banco settato sui 9 volt di alimentazione a un generatore di bassa frequenza che in questo caso sta erogando un segnale a un kilohertz una sinusoide da un kilohertz a 100 millivolts nello oscilloscopio potete vedere due segnali uno in giallo uno in blu in giallo abbiamo il segnale in ingresso in blu quello in uscita ovvero in giallo considerate il segnale che arriverebbe da un'ipotetica chitarra e in blu quello che esce dal nostro pedale la prima cosa che notiamo è che questa sezione qui guardate lo oscilloscopio nonostante esegua la commutazione il led rimane sempre acceso un po più fioco quando in bypass questo significa che riesce a trovare comunque una via di fuga verso massa il led e la sua alimentazione infatti uno dei tre segmenti di questo interruttore 3p dt è dedicato proprio a collegare a massa il led per cui in una posizione il led va a massa tramite l'interruttore nell'altra dovrebbe essere esclusa in questo caso vediamo invece che trova ancora un modo di rimanere a massa questo interruttore è sicuramente da sostituire andiamo a vedere adesso il funzionamento complessivo partiamo con la prima unità questa qui la prima andiamo a commutare il led si accende vedete che non abbiamo nulla sull'oscilloscopio sul segnale blu non abbiamo nulla perché a tutti i livelli al minimo alziamo piano piano il level vedete ve lo faccio rivedere sale poi riscende poi ha un funzionamento non molto fluido questo probabilmente determinato proprio dal fatto che il potenziometro è probabilmente molto sporco infatti a delle zone dove mentre il segnale sta crescendo vedete io sto aumentando a un certo punto si riabbassa poi ritorna e inizia a funzionare verso ore 11 andiamo adesso sul gain il gain invece sembra fare il suo lavoro abbiamo ancora il potenziometro del tono chiuso andiamolo ad aprire ci aspettiamo un grosso incremento sull'onda e di fatti ce l'abbiamo qui abbiamo un clipping asimmetrico fisso sta sezione infatti ha nel suo soft clipping sull'operazionale un led rosso e 2 1 n 41 48 allora di questa sezione qui sicuramente bisognerà andare a controllare il potenziometro di level ritorniamo al nostro segnale originario come vedete in bypass è uno a uno quindi non deve amplificare adesso andiamo all'unità che rimane con il led acceso alziamo il livello come vedete questo potenziometro risponde già diversamente a un incremento maggiore anche se ha pure questo vedete delle zone in cui in qualche modo vedete si interrompe non è proprio fluidissimo qui probabilmente è solo questione di una pulizia fatta per bene andiamo ad alzare il game il game sembra non avere particolari problemi agiamo sul tono anche qui ci aspettiamo un grosso incremento lo mettiamo al suo massimo ecco qua vediamo in effetti la forma d'onda bella squadratella quindi diciamo con un ottimo livello di clipping andiamo ad agire adesso sull'interruttore del clipping come vedete aumenta la soglia in buona sostanza in questa sezione sicuramente ci sarà da sostituire questo foot switch il resto andrà semplicemente ripulito date le sorti di questo foot switch onestamente non me la sento di rischiare la sostituzione solo di questo una volta aperto infatti credo che sia il caso di andare anche ad agire su questo qui e la andiamo a mettere completamente in sicurezza rigeneriamo i due foot switch sostituiremo questo potenziometro se necessario effettueremo la pulizia completa dei potenziometri dell'interruttore e di tutto quello che c'è all'interno la prima operazione che dobbiamo andare a fare sicuramente è rimuovere il knob mettiamo tutto al minimo in modo da poter raggiungere la vite e andiamo a liberarlo dalle manopole è meraviglioso vedere che basta spostarlo perché escano detriti di fango dall'interno sono messi con una leggera pressione quindi senza danneggiare le enclosure andate ad estrarli non fate leva sempre dallo stesso lato per non danneggiare potenziometri e knob passiamo infine a questi qui che si trovano in posizione più centrale vedete adesso senza le manopole superiori si accede più facilmente a questa fatto questo ci liberiamo dei dati procediamo infine con lo switch iniziamo a liberarli vediamo se riusciamo a liberarlo in questo modo qui ecco cosa abbiamo di fronte vedo che praticamente l'isolamento tra i potenziometri sono fatti vicinissimi è ottenuto con questi piccoli spacer di plastica non è una cosa molto bella da vedere vi dico la verità procediamo con la pulizia partiremo banalmente sempre con l'ausilio di uno spazzolino adesso purtroppo non posso farvi vedere tutta la procedura ma continuerò con aria compressa e con un pennello a liberare quanto più possibile del circuito stampato c'è qualcosa di appiccicoso probabilmente forse un tentativo sembrerebbe dell'olio irrancidito c'è finito qualche cosa dentro che in qualche modo si è appiccicato quindi dovremmo lavorarci molto di isopropilico questo potrebbe essere un problema specialmente perché abbiamo bisogna andarci molto cauti per evitare di rovinare l'enclosur quindi non potrò usare quello a pressione userò questo qui manuale lo spruzzino ecco vedete l'isopropilico il pregio di rendere poi dopo più evidenti quei punti invece che non erano così evidenti quando erano ancora freschi aperti ovvero andando a smuovere un po di quel grasso che c'era al di sopra probabilmente un tentativo di farlo funzionare lubrificandolo una volta che si libera di quel grasso grazie all'isopropilico piano piano si riesce a rivedere dopo tanto alcol isopropilico all'ausilio dello spazzolino prima del pennello per altri dettagli e soprattutto di una quantità spropositata di cotton fioc per raggiungere alcuni punti vi faccio vedere come è ritornato in vita il nostro pcb bello pulito ordinato anche e soprattutto dal lato rame c'è ancora qualche piccola traccia di corrosione superficiale ma il circuito è libero da residui che potrebbero causare corti indesiderati sono stati anche puliti i potenziometri una cosa che non ho molto amato vi dico il vero è questa qui in questo spazio che praticamente c'è tra la carcassa e il circuito per evitare cortocircuiti si usa mettere dei distanziali in questo caso ve ne mostro uno che ho rimosso un punto banalissimo di sembrerebbe colla a caldo un tappino di silicone incollato insomma alla meglio io credo che esista un girone all'inferno apposito per quelli che usano la colla a caldo nei circuiti un'altra cosa che non amato è la presenza di linguette di plastica non so se riuscite a vederle per far sì che i corpi dei potenziometri e le relative gambine non tocchino fra di loro questo perché è avvenuto è avvenuto perché nel design della scheda il costruttore non è riuscito a inserire i potenziometri in maniera adeguata con una distanza diversa sarebbe stato sufficiente cambiare la posizione di questo interruttore andandolo già orientare magari in maniera ruotata di 90 gradi ci sarebbe stato lo spazio per evitare questa cosa qui bene fatto questo ho ripulito intanto la parte che si era liberata rimuovendo il pcb il resto lo andremo a pulire una volta rimossi i due foot switch in modo che avremo campo libero per poter pulire questa zona qui esternamente avendolo adesso liberato vedete questo sporco lo andremo a rimuovere un'altra cosa molto importante quando lavorate con l'isopropilico su questa enclosure di tipo artigianali e verniciate state molto attenti a dove lo orientate ed evitate di creare dei ristagni dove la vernice potrebbe entrare a contatto perché scioglie anche la vernice quindi è da utilizzare con un minimo di cautela andiamo a pulire un attimo questa enclosure prendiamo lo spazzolino perfettamente asciutto e iniziamo a dargli un'energia strofinata senza esagerare quanto basta almeno a rimuovere quello che viene via se vedete infatti che c'è uno sporco tale da opporre resistenza a questo semplice passaggio significa che non è questa la strada da seguire però sicuramente come potete vedere dalla superficie delle setole un po' di sporco lo ha tolto come lo andremo a pulire andiamo a prendere semplicemente uno straccio in microfibra bagnato e strizzato piccola dritta in questa verniciatura come vedete che ha dei motivi in diagonale cercate di seguire l'orientamento della vernice in modo da evitare di andare a grattare più del necessario la decorazione la finitura sembrerebbe acrilica quindi è sensibile anche all'acqua per cui gli date una prima passata e l'acqua penetrerà un po' all'interno della superficie sporca essendo terriccio ha bisogno di essere ammorbidito il rischio di farlo troppo brutalmente in una fase iniziale è quello di andare sia a rimuovere il terriccio ma anche di intaccare lo strato di acrilico in controluce iniziate a vedere quando si asciuga una seconda passata lo sporco si è ammorbidito per effetto del passaggio precedente controllate sempre che non ci sia rilascio di vernice e cambiate ogni tanto il lato della pezza in microfibra per evitare di spalmare lo sporco su una superficie ancora più ampia con lo stesso criterio di prima aspetteremo di rimuovere i due foot switch per andare a pulire le zone di contorno nel frattempo possiamo approfittarne per fare questi altri lati direi che come prima pulizia può andare in effetti la pulizia con l'isopropilico ha sì ripulito tutta la parte di elettronica dai residui e dai contaminanti che potrebbero pregiudicare il funzionamento del circuito ma purtroppo la corrosione che è avvenuta per mezzo dell'acqua e dell'umidità sulla pista quando la pulite con l'isopropilico lascia diverse zone non protette ecco questo è uno di quei casi in cui un pulitore per contatti di tipo oleoso risulta utile in quanto andremo a ripristinare un piccolo film protettivo al di sopra del pcb questo lavoro però lo faremo alla fine andremo a fare prima questo poi l'altro lato una volta che l'enclosura sarà completamente pulita e il wiring terminato andiamo a collocare provvisoriamente di nuovo il pcb in posizione e andiamo a collocare soltanto un paio di viti mettiamo due viti quelle più estreme ci aiuteranno a tenere il pcb in posizione e soprattutto a tenere l'enclosura dritta per chi di voi dovesse provare a fare una cosa del genere per la prima volta il consiglio è quello di fare una fotografia del wiring in modo da non sbagliare da sapere ogni cavo a cosa corrisponde bene ora se avete fatto tutto per bene liberato il nostro pedale dai suoi interruttori vi troverete davanti questa situazione qui questo ci ha consentito di pulire per bene i due jack e di pulire anche la parte metallica internamente non solo da residui ma cercando di ripristinare un ottimo contatto elettronico e che i cavi lì dove sono rimasti corti sono ancora utilizzabili qui sul circuito sono un po più deboli quindi mi piacerebbe andarle a sostituire abbiamo saldato i cavi nuovi e adesso sempre rispettando il codice colori in modo da non generare confusione adesso andiamo a ricollocare in posizione questa piastrina prima però gli diamo il trattamento con lo sblocca contanti oleoso vi faccio vedere il risultato quale senza esagerare quanto basta sia dal lato componenti ecco vedete quando asciugherà il propellente rimarrà un leggero strato protettivo e assolutamente non conduttivo facciamo lo stesso anche dal lato del pcb adesso lo lasciamo asciugare con calma non andiamo a rompergli le scatole subito aspettiamo che sia perfettamente asciutto ho montato gli interruttori nuovi eccoli qui e ho ricollocato il pcb al suo posto fissandolo dall'altro lato attraverso i dadi dei potenziometri vedete ha bisogno di ricevere solo ed esclusivamente le manopoline ma lo faremo dopo perché questa operazione la facciamo in questo modo qui primo non mi piacciono quelli originali utilizzeremo le pcb che di solito consiglio per fare questo tipo di lavoro queste pcb ci consentiranno di fare una saldatura pulita soprattutto un cablaggio molto ordinato e a prova di errore senza danneggiare l'interruttore sotto fissiamo prima questo le prime saldature che faremo sono quelle dei cavetti e del led collochiamo già il pcb in posizione perché vedremo che ci agevola molto a fare un cablaggio più pulito ovvero avremo la possibilità di andare a pre terminare i cavi già della giusta lunghezza avendo rispettato il nostro codice colori risulterà anche molto più facile fare un buon lavoro abbiamo finito praticamente l'operazione di ripristino ho montato due switch nuovi ho utilizzato gli alfa che conoscete già che avete visto in altri video per chi non li ricordasse sono questi qui sono questi qui neri e viduti utilizzo questi qui proprio perché sono a mio avviso molto più resistenti vi suggerisco di utilizzare questo tipo di pcb in descrizione troverete anche il link se siete interessate proprio a queste potete utilizzarne anche di un altro marchio ma vi consiglio sempre di usarli questo vi consentirà un layout molto bello ordinato pochi cavi che vanno in giro direi che a questo punto possiamo anche andare a chiudere il pedale siamo nella modalità bypass vedete che il segnale blu e il segnale giallo sono identici in giallo abbiamo il segnale in ingresso in blu quello in uscita partiamo dal primo interruttore secondo interruttore ecco finalmente i led si accendono al momento giusto partiamo con il primo vedete la pulizia ha avuto effetto anche sul potenziometro mettiamo il tono a palla diamo il game il game benissimo questo canale è ok andiamo sull'altro canale il game il game tono volume proviamo adesso l'interruttore del clipping bene direi che funziona tutto ora la risposta ovviamente ce la darà una prova sull'amplificatore iniziamo la nostra prova finalmente i potenziometri hanno smesso di gracchiare questo abbiamo visto che funziona vediamo l'altro questo qui si vede già che ha molto più guadagno proviamo adesso il cambio clipping vediamo come si comporta qui dovrebbe avere un clipping un po' più compresso da subito quello che si vede già qui non c'è qui qui questo è qui qui che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.